Grazie, io sono direttore della comunicazione istituzionale delle relazioni con l'EPA del Performance che è una struttura in house della Presidenza del Consiglio, della Funzione Pubblica che ha l'onore di avere anche la Regione Puglia fra i suoi soci e sono giornalista, scrivo sul Corriere del Mezzogiorno e più soltariamente sul Sole 24 ore e dotente in varie università, sono contento di poterlo dire qui perché la Puglia non è solo la mia Regione ma anche la Regione dove ho cominciato questa attività universitaria ormai 30 anni fa, l'Università di Bari, quando un'intuizione della loro preside della Facoltà di Economia e Commercio Giovanni Girone intuì, l'intuizione si basò sul fatto che la comunicazione, il primo corso di comunicazione in Italia fu fatto a Bari, questo pochi lo sanno, nel corso in marketing e comunicazione di azienda, cioè la comunicazione legata alla gestione manageriale, un'intuizione che poi purtroppo è stata abbandonata creando dei danni sicuramente a questa funzione fondamentale delle attività pubbliche. Oggi ho cercato di impostare il lavoro anche su richiesta della dottoressa Caccavo che ha organizzato un evento così coerente nella sua struttura, non tanto di parlare, cercherò non tanto di parlare dei valori che sono dietro queste parole che ho messo al centro del mio intervento, cioè il PIAO come strumento di trasparenza accountability, comunicazione, disensatisfaction, ma far parlare le norme che noi abbiamo nel nostro ordinamento che raccontano questi valori, perché parlare di valori è molto semplice nei convegni, fa fare bella figura e fa sentire gratificati, ma in realtà noi abbiamo un sistema, un ordinamento che è come sarebbe contento il mio maestro Sabino Cassese di sentirmi dire che il diritto amministrativo alla pubblica amministrazione basso sulle norme, tutto ciò che è al di fuori delle norme non ha valore se non come ausicio e tutto ciò che è nelle norme molto spesso resta sulla carta perché esistono delle resistenze interne che ne rendono difficile l'applicazione. In parole più semplici, con sintesi giornalistica, quello che vi dirò è tutto già scritto. Il sistema italiano, con una coerenza strategica trentennale, ha indicato con precisione quale deve essere la strada della sua programmazione, che non è adempitiva ma è realizzativa. Non è rivolta al proprio interno, come purtroppo ancora tante volte noi vediamo, ma è rivolta al mondo esterno. Il nostro obiettivo di amministratori pubblici è aprire le finestre, fare entrare l'aria, il vento, la pioggia, il sole della vita esterna, con i problemi, con le sue minacce, con le sue criticità, per rigenerare anche il senso della nostra missione pubblica. Ecco perché il mio intervento parlerà di norme che esistono, parlerà di un ondeggiare dell'amministrazione italiana negli ultimi 30 anni che è inadatto sicuramente a chi soffre, come me, di mal di mare, ma la barra dritta di questa nave c'è ed è la valutazione partecipativa di cui ha parlato Claudio Amigliore e di cui ha parlato il professor Deida Gagliardo. E che sicuramente è nelle norme anche della regione Puglia, che dal punto di vista ordinamentale è molto avanti, perché ha un piano della trasparenza ben scritto e ha un Piau che è stato realizzato per tempo e con degli spunti molto interessanti. Però il problema oggi non è come fare il Piau, ma per cosa farlo e per chi. Noi dobbiamo cambiare la domanda, perché se no non cambieremo mai la nostra analisi. Per chi dobbiamo realizzare questa programmazione? Per cosa? Ecco io, partendo dalla famosa frase sulla casa di vetro del deputato Filippo Turati che nel 1908 disse alla Camera che l'amministrazione, salvo casi di momentaneo e superiore interesse, deve essere una casa di vetro. Ecco io direi che il nostro obiettivo deve essere far diventare la casa di vetro la casa del cittadino, la casa dove le persone si sentono nella loro habitat naturale, dove non si sentono degli intrusi, degli ospiti. E quindi il problema è utilizzare il Piau per raggiungere obiettivi di reputazione, di valutabilità da parte del cittadino, anche e soprattutto attraverso il digitale che consente attraverso le piattaforme social anche la sincronia della valutazione. Diventa un fatto semplice, diventa un fatto abituale. dare cittadinanza digitale, creare un'abitudine alle carte dei servizi e quindi agli standard di servizio, rendere la citizen satisfaction un criterio abituale della valutazione delle prestazioni pubbliche. Quindi il progetto che il Formez, il laboratorio che il Formez adesso è in piedi con la Regione Puglia, il nostro obiettivo deve essere farlo diventare un processo di sistema, perché noi abbiamo questa strana abitudine in Italia. Sono trent'anni che facciamo, adesso vi dirò anche decenni per giustificare questa mia affermazione, che facciamo delle leggi molto avanzate e poi facciamo dei laboratori per sperimentarle. Come se le leggi non dovessero creare un sistema, un modo di lavorare. Il modo di lavorare resta lo stesso, però noi creiamo dei laboratori che sperimentano le leggi. A me non sembra un sistema positivo, perché se no ci troveremo, se non prendiamo coscienza di questo problema, fra dieci anni a fare un nuovo incontro, su una nuova sperimentazione, su qualcosa che già le leggi dicono. Ad esempio, quello che diceva all'inizio Roberto Venneri su cos'è effettivamente il Piau, dal 30 al giugno 22, con l'ecreto funzione pubblica 132, il Piau diventa un adempimento obbligatorio che assorbe performance tra bisogni, formazione, parità di genere, anticorruzione e trasparenza. Però se noi vogliamo evitare che questa semplificazione diventi semplicemente una somma di piani già esistenti, dobbiamo appunto lavorare sul cosiddetto valore pubblico, una parola che anche a me, sono d'accordo con chi mi ha preceduto, sembra assolutamente illuminante, però dobbiamo capire cosa vuol dire valore pubblico. Il valore pubblico è quello che noi riteniamo tale o quello che è percepito dagli utenti. Anche qua è un altro bivio. Se noi pensiamo che il valore pubblico è ciò che riteniamo noi, saremo sempre concentrati sulla nostra efficienza organizzativa, sulla nostra riorganizzazione, sulla costruzione di nuovi uffici, per esempio, come è successo con il decreto 97 del 2016 sulla trasparenza, che più che cambiare il modo di vivere dell'amministrazione, ha costruito nuovi uffici, nuove strutture, nuove identità all'interno delle piante organiche. Era questo l'obiettivo della trasparenza, del FOIA italiano, del Freedom of Information Act italiano? Sicuramente no. E allora dobbiamo chiederci quali sono gli obiettivi effettivi del valore pubblico e da chi dobbiamo farceli dire e valutare. L'articolo 6 del punto 3 del decreto legge 80 del 21, quindi proprio quello che riforma tante cose, tra questi anche il Formez, ma riforma e introduce il Piau, dice con chiarezza che cos'è questa programmazione, ma è uno dei punti che, come dicevo prima, vengono oscurati, perché nelle nostre leggi noi alcuni articoli li rendiamo cogenti e altri li rendiamo degli auspici, come si dice che sia il semaforo rosso nel sud Italia. Un auspicio, un consiglio. Noi certe cose per noi diventano evidenti, dobbiamo costruire una struttura, beh, lo dice la legge, poi la legge nell'articolo dopo dice un'altra cosa, ma quella la dimentichiamo, la facciamo diventare una bella espressione, diciamo, augurale. Il Piau definisce le modalità di monitoraggio degli esiti, inclusi gli impatti sugli utenti, anche attraverso rilevazioni della soddisfazione dell'utenza mediante gli strumenti di quel decreto legislativo 27 ottobre 2009. Quindi il Piau si ricollega alla riforma Brunetta, non a caso è lo stesso Ministro che ha varato questo decreto, per dire la stessa cosa che diceva sostanzialmente 13 anni fa. La performance è uno strumento nelle mani dei cittadini, sono i cittadini a dover ispirare la sua costruzione, sono i cittadini a doverla valutare. E in base a questa valutazione ci dovrebbe essere anche la valutazione meritocratica delle strutture pubbliche. Quindi il punto di, il vizio di origine di questa nuova visione della programmazione pubblica, che non è stata sottolineata adeguatamente, a mio parere, anche nelle analisi che mi hanno precedute, è proprio questa assenza. Se non c'è la comunicazione, la citizen satisfaction come elemento chiave della valutazione dei piani, non c'è l'accountability. Quindi di fatto la nostra idea di valore pubblico resta sostanzialmente parziale. E quindi veniamo meno a questa coerenza trentennale del legislatore italiano, a cui io faccio un riconoscimento pubblico. Noi siamo un Paese molto avanti sul piano delle leggi, nessuno ci può insegnare. Perché noi è dal 1990 con la 241 che diciamo che l'amministrazione deve imparare la trasparenza. Lo diciamo prima di molti altri Paesi, certo prima della Svezia o degli Stati Uniti, ma sicuramente prima della Francia o della Spagna, che poi ci hanno superato. Perché dicevamo già con la 241 che il cittadino può accedere agli atti pubblici, solo che mettevamo un limite se ha un interesse specifico e attuale. E poi all'articolo 24,9 della 241 dicevamo una cosa abbastanza eloquente dello sirido del tempo. In nessun caso la trasparenza può essere usata per controllare l'attività della pubblica amministrazione. Cioè il legislatore del 1990 diceva non dobbiamo controllare la pubblica amministrazione. La pubblica amministrazione è insindacabile, può soltanto essere interpellata quando ha un interesse specifico. Ma poi è arrivato il 1994 col DPR che diceva che i cittadini devono valutare e decidere insieme le politiche pubbliche. Una DPR che si è tradotta nella legge del 1995. E' arrivato il 2000 con la legge sulla comunicazione pubblica. Il 2004 e il 2005 con due circolari sulla citizen satisfaction che sembrano scritte a Stoccolma, non a Roma. Poi è arrivato il 2009 con la riforma Brunetta, la performance, le faccine, l'investimento sulla trasparenza estesa. E' arrivato il 2013 col decreto 33 che dice per la prima volta quello che la legge del 90 negava, che la trasparenza serve a controllare l'attività delle pubbliche amministrazioni. E' arrivato il 2015 col codice dell'amministrazione digitale e il 2013 con il FOIA e il 2017 con la circolare 2 della funzione pubblica che parla di dialogo collaborativo con il cittadino e di uso dei social come elemento sistematico per la rilevazione del feedback del cittadino. Ecco il decreto 74 di riforma della performance. Insomma, in tutto questo percorso in cui io in un minuto, come si fa nei time-lapse di internet, ho ripercorso tre decenni, quando è che abbiamo perso il treno? Quando è che ci siamo dimenticati di ciò che la legge ci diceva di fare? E soprattutto perché vogliamo insistere nel dimenticare? Perché trasformiamo in laboratori preziosissimi di altissima qualità come quelli descritti da Claudia ma che restano quindi avanguardie, momenti episodici, momenti laterali rispetto all'attività ordinaria. Eppure già per esempio nel decreto 74 del 2017 si parlava della stessa cosa di cui parla il decreto 80 del 2021, cioè impatti delle politiche e dei progetti, benessere complessivo e multidimensionale, economico, sociale, ambientale e sanitario, di cittadini, imprese e stakeholder, valutazione partecipativa, un valore pubblico che si contrappone all'autoreferenzialità, all'adempimento, perché fa una sorta di filiera, analisi dei bisogni, obiettivi, minacce emerse dal contesto, che sarebbe facile trovare quante minacce ci sono in una burocrazia pubblica rispetto a queste innovazioni, quanti sono i centri di resistenza rispetto al dialogo effettivo con gli stakeholder e i cittadini. Le minacce sono anche interne, i piani anticorruzione e trasparenza a volte le indicano, ma restano sempre, ripeto, esercitazioni di stile. E nel decreto 97-2016, che è quello che ispira la nostra giornata, questo concetto è espresso in una maniera talmente insistita ad essere ossessiva. Il decreto 97 dice all'articolo 6 che i dati che devono essere forniti dalla trasparenza devono essere integri, aggiornati, completi, tempestivi, semplici, comprensibili, omogenei, facilmente accessibili, conforme ai documenti originali, con indicazione della provenienza e riutilizzabili. Quanti dati che noi pubblichiamo con la trasparenza rispondono a questo articolo 6? Quanti dati nostra zia potrebbe andare volentieri a consultare ricevendone un beneficio? A parte che dovrebbe sapere di poterlo fare, e qui c'è un problema di deficit strutturale della comunicazione sulla trasparenza, ma pure ammesso che qualcuno lo sappia, quanti dati comprensibili, utilizzabili, utili alla sua vita quotidiana, noi comunichiamo con la trasparenza. L'articolo 32 del 97 dice che l'EPA e i gestori di servizi pubblici sono tenuti a pubblicare le carte dei servizi con costi contabilizzati e relativo andamento. Sapete che vuol dire l'EPA e i gestori di servizi pubblici? Vuol dire le municipalizzate, vuol dire le strutture sanitarie, vuol dire le strutture che gestiscono un servizio di utilità pubblica, devono pubblicare le carte dei servizi, devono dirci a noi cittadini a cosa abbiamo diritto. Abbiamo diritto che l'autobus abbia l'aria condizionata o no? Perché se abbiamo diritto è un conto, se non abbiamo diritto è un altro. Per non essere sudditi dobbiamo sapere ciò di cui abbiamo diritto. Quanti rispettano o sanno che esiste un articolo 32 con un comma 2 all'interno del decreto 97 del 2016? L'articolo 10,9 sempre del decreto 97 che c'era già nel 33 quindi perché il decreto 97 come sapete riforma il 33 ma in molte cose lo conferma e dice che la trasparenza è la dimensione principale ai fini della determinazione degli standard di qualità dei servizi pubblici da adottare con le carte dei servizi. Allora, fra la trasparenza accountability che io ho messo nel titolo del mio intervento è la trasparenza adempitiva la trasparenza poliziesca la trasparenza che serve a individuare questa enorme frotta di ladri che secondo questa visione comune questa narrazione indecorosa indegna, offensiva viene portata avanti anche dalla stampa. L'amministrazione è fatta a metà di fannulloni e per metà di persone che non aspettano altro che dirà come andare il cugino ma è così noi che viviamo dentro l'amministrazione quante persone corrette per bene serie che vogliono lavorare incontriamo perché dobbiamo fare della trasparenza un meccanismo di aggiuntivo rispetto alla magistratura rispetto alla polizia giudiziaria eppure questi sono i piani anticorruzione la mappa del rischio la cultura del sospetto la rotazione delle imprese per cui se io faccio un lavoro di un anno e mezzo per trovare un'impresa che mi fornisce un servizio l'anno dopo la devo cambiare perché se no sono a rischio di abuso non è che qualcuno viene a dire se ho qualche interesse a creare a creare una diciamo una permanenza del fornitore io l'interesse pubblico che ho è mantenere un fornitore che mi ha dato una buona prestazione non dico per 30 anni ma certo per più di uno ma potremmo fare tanti esempi chiunque gestisce appalti all'interno dell'amministrazione sa di cosa parlo sa che è completamente annichilito dalla trasparenza per come è stata concepita in Italia eppure ma siamo sempre lì le cose che si scrivono e non si leggono fu l'ANAC l'ANAC l'autorità nazionale anticorruzione a scrivere nelle sue linee guida il FOIA serve alla partecipazione civica alla valutazione alla democrazia e inoltre alla prevenzione della corruzione invece l'abbiamo trasformato in uno strumento di polizia questa è già una delle grandissime rivoluzioni da fare concepire i piani di trasparenza come dei piani che aprono le porte dell'amministrazione del resto questo è l'interesse di un politico perché un presidente di regione un sindaco ha interesse ad aprire le porte del comune della regione o a far diventare il comune della regione una cittadella di malfattori assediata dalle norme quindi dovremmo semplicemente assecondare quello che è il desiderio di qualsiasi politico che giustamente si vuole confrontare con il consenso eppure non riusciamo a farlo quasi nessuno riesce a farlo nel sito del governo foia.gov.it si dice anche questo perché il governo sa benissimo quali errori si stanno facendo da cinque anni sul tema della trasparenza scrive per realizzare un piano della trasparenza aduato facciamo il cosiddetto test dell'interesse pubblico io scommetto che nessuno ha idea di cosa sia eppure è scritto sul sito del ministero della PIA non è che è scritto in una mia pubblicazione diciamo avenidistica per fare la trasparenza vediamo se quello che stiamo facendo serve a una migliore comprensione del dibattito pubblico e delle scelte effettuate dalle amministrazioni a una maggiore partecipazione alla formazione delle decisioni e alla valorizzazione del confronto diffuso delle finalità istituzionali sull'utilizzo delle risolte pubbliche per responsabilizzare gli apparati pubblici qualsiasi presidente di regione non solo Emiliano ma anche De Luca ma anche Zaia ma anche Zingaretti sarebbero d'accordissimo questo serve questo piano a mettermi in una posizione di apertura verso i miei elettori che sono poi cittadini ma questo testa l'interesse pubblico chi lo fa? La regione Puglia ha fatto un piano della trasparenza estremamente interessante io l'ho studiato perché ho fatto l'anno scorso una lezione molto accurata approfondita sulla trasparenza ma mi chiedo quanto siamo avanti dal punto di vista dell'effettiva realizzazione dell'effettiva percezione da parte di tutto l'apparato amministrativo che la struttura pubblica deve essere ormai citizen oriented come dicono le imprese orientata non sul proprio prodotto ma sull'impatto che questo prodotto ha sui cittadini e continuo a dire che non è Sergio che dice queste cose anche se io umilmente le scrivo le insegno da tanti anni lo dice il Consiglio di Stato già nelle osservazioni al foia scrisse sempre più spesso le riforme si perdono nelle prassi amministrative e conservative nel difetto di un'adeguata informatizzazione nel mancato apprendimento di meccanismi da parte degli operatori pubblici nel difetto di comunicazione con i cittadini e le imprese che non riescono a conoscere e quindi a rivendicare i loro nuovi diritti non lo dice un'associazione di consumatori o un partito estremista populista lo dice il Consiglio di Stato che poi con la sentenza 10 del 2020 fissa il dovere di osaminare l'estanza del cittadino anche se espressa in modo generico e anche se incerta fra il 241 2.990 e il 97 2016 quindi il Consiglio di Stato a dire che l'amministrazione deve venire incontro al cittadino così come diceva la circolare 2 del 2017 che imponeva alle amministrazioni di usare il telefono questo strumento della tecnologia moderna che sostanzialmente nessuno usa perché nessun funzionario pubblico pensa che il suo dovere non è dire sì o no ma capire cosa vuole una persona esattamente come un qualsiasi commesso di un negozio che non manda via una persona solo perché è incerta ma cerca di capire cosa vuole per poterli vendere un prodotto noi dobbiamo ragionare nella più elementare logica della accoglienza e dell'ascolto non è difficile e del resto questa è la linea che viene da ministri che io vi cito perché mi fa piacere citare i ministri di diverso colore politico ma dia buongiorno dadone brunetta e ora zangrilo dicono la stessa cosa e che è qualcosa che resta nell'auspicio della politica dell'intervista sul messaggero e non riesce mai a diventare prassi quotidiana cosa possiamo fare mi avvio a fare la pars construens dopo questa analisi io credo che in questo caso oltre che le norme che vi ho citato ci soccorra anche la cosiddetta soft law che in Italia è anche una struttura di grande valore chi scrive le circolari chi scrive le direttive molto spesso è illuminato dalla libertà perché mentre chi scrive le leggi deve fare i conti con l'ufficio legislativo e con la scura di Palazzo Chigi chi scrive le circolari molto spesso è come la circolare 2 del 2017 sulla trasparenza che io vi invito a rileggere o a leggere per esempio le linee guida sulla valutazione partecipativa che citava prima a Claudia del 4 dicembre 2019 che seguono il decreto 74 dicono semplicemente questo che l'amministrazione ha un metodo chiaro definisce il modello di valutazione partecipativa definisce la mappa degli stakeholder individua i servizi da valutare la performance dei soggetti valutatori fa formazione fa comunicazione ottiene i dati e li utilizza è un meccanismo una filiera produttiva della valutazione partecipativa molto importante certo poi dice che a fare questo deve essere l'OIV mentre l'OIV insomma è vero che è diventato una sorta di factotum nell'idea delle amministrazioni perché è veramente incomprensibile come un solo organo possa fare tutto quello che la legge gli dice ma perché non ci si è dimenticati che esistono le strutture di comunicazione e di comunicazione digitale che perlomeno insieme all'OIV non dico da sole dovrebbero fare questo perché se noi chiediamo all'amministrazione di parlare con i cittadini e di comunicare ai cittadini come facciamo poi ad affidare questo complice all'OIV o agli uffici legali che gestiscono la trasparenza questo sistema dell'amministrazione inchiodata agli uffici legali è la fine dell'amministrazione partecipata perché gli uffici legali hanno una logica evidentemente difensiva evidentemente ostativa perché quella è la loro missione fare attenzione mettere in guardia la struttura di comunicazione hanno invece una struttura volutamente professionalmente aperta fanno quello che un giorno ho sentito dire anche lì non a un sognatore ma a Raffaele Cantone un magistrato che era presidente dell'autorità anticorruzione che a un convegno del Formez a Napoli gelò la platea dicendo il funzionario pubblico non deve rispettare le leggi tutti rimasti un attimo in silenzio come voi sentite il silenzio e certo lo dice Cantone deve fare ciò che le leggi non gli vietano di fare è un cambiamento culturale è una rivoluzione mentale noi dobbiamo fare ciò che la legge non mi vieta espressamente per raggiungere il mio obiettivo per consentire ai cittadini e agli utenti come dicono le linee del 19 di svolgere un ruolo attivo anche nella riprogettazione del servizio il giorno che noi cambieremo un servizio perché le persone ci hanno detto che così non funziona bene ecco quel giorno avremo creato un embrione di amministrazione aperta questo open government cui tanto si parla in cui l'Italia è in prima linea sempre nella teoria e che parla proprio di trasparenza accountability di partecipazione civica di innovazione digitale al servizio dei cittadini questi argomenti sono noti al governo perché la commissione tecnica per la performance che è stata istituita dal ministro uscente da Brunetta il 19 ottobre 2021 nella sua relazione oltre a citare Formez SNA Istat come partner di un network per controllare la performance dice che vi è scarsa qualità degli obiettivi degli indicatori limitata integrazione con il ciclo di programmazione economico-finanziaria limitato coinvolgimento dei decisori chiave stiamo parlando del Piau sistemi di controllo di gestione non ben sviluppati limitata capacità di selezione dei contenuti limitata attenzione al monitoraggio periodico limitato ricorso a forme di valutazione esterna o partecipativa coinvolgimento dell'OIV limitato e di taglio prevalentemente formale cioè peggio di così io non credo che una commissione possa esprimere e pagata per dire come sta andando ha detto praticamente che non c'è niente nei primi passi del nuovo strumento di programmazione di ciò che ci dovrebbe essere io credo che attraverso un ricorso sistematico al digitale perciò l'ho voluto inserire anche nel titolo del mio intervento possiamo fare una vera rivoluzione che è anche a portata di mano io ho coordinato negli scorsi anni fino al 2021 un gruppo di lavoro istituito dalla Ministra D'Addone sulla riforma della legge sulla comunicazione pubblica a cui hanno partecipato le associazioni dei giornalisti l'associazione dei comunicatori digitali le regioni le università i comuni le associazioni civiche e abbiamo raggiunto un'idea per la riforma della legge 150 l'abbiamo chiamata la legge 151 per dire quella che viene dopo con anche un testo che ha lavorato con l'ufficio legislativo che inserisce l'esperto digitale fra le figure del pubblico impiego i social media manager sono figure fondamentali che possono cambiare il nostro impatto col mondo esterno se oggi noi siamo qui in 50 in contatto con 100, 200, 300 persone lo dobbiamo dare le tecnologie in pandemia abbiamo imparato che vuol dire avere un mondo che si dilata attraverso l'intelligenza artificiale ma anche solo attraverso piattaforme che ci fanno studiare insieme stare insieme comprare delle cose al di fuori ci fanno fare ampiano moltissimo ci fanno capire che il remoto diventa la vera dimensione della partecipazione civica ma per questo ci vogliono degli esperti la Francia che è partita dopo di noi ha un centro interministeriale della partecipazione che è istituito per aiutare tutti gli enti che puntano su questo aspetto fondamentale della nuova policy e che quindi attraverso il repertorio del portale della Francia si possono conoscere le consultazioni pubbliche le proposte dei cittadini e gli impatti che hanno avuto sulle politiche pubbliche io spero che il Formez e la Regione Puglia possano fare qualcosa del genere con la amica e collega Alessia Grillo segretaria della conferenza delle regioni stiamo lavorando ad un'idea di sviluppo di questa idea sulla sanità perché se riusciamo a inserire ho sentito degli interessanti aspetti anche dalla dottoressa Gattulli di sperimentazione su questo sentirsi accolti in un ospedale in un asl l'Italia ha forse le migliori prestazioni mondiali a livello di sanità pubblica però non ha fatto il passo verso l'accoglienza verso il dialogo con la persona che entra in un posto dove si sente un estraneo e magari poi ne uscirà con una idea positiva della prestazione che ha subito ma che ha ricevuto ma non è assolutamente completo questo percorso finché non ci sarà un meccanismo di comunicazione e di accoglienza io concludo dicendo cominciato con Turati e finisco con Steve Jobs siate affamati e siate folli la famosa frase di Steve Jobs dobbiamo avere il coraggio di osare siamo in una società che sta rischiando perché nonostra è una società ricca una società che vive di diritti acquisiti che in tanti paesi del mondo sono negati basti pensare all'Ucraina all'Iran all'Afghanistan ma dobbiamo uscire da questa coltre da questa spessa coltre di stanchezza di rassegnazione che si esprime poi nella famosa fuga dalla firma ma io direi soprattutto fuga dalla fiducia nel senso che noi non abbiamo fiducia nella struttura in cui lavoriamo e quindi non riusciamo a trasmettere ai cittadini nessuno crede di avere dall'altra parte uno stato amico perché noi per primi ci sentiamo parte di uno stato ingessato ma non è così le possibilità di cambiare ci sono i politici che si avvicendano al vertice hanno tutto l'interesse a farlo perché il loro obiettivo è ottenere il consenso non facciamo ostacoli non creiamo barriere inutili quasi con quelle profezie che si autoavverano per tutto ciò che possiamo fare lo faremo perché tanto qualcuno ce lo impedirà il Formez in questo è specialista Claudio mi può confermare sono anni che in tutte le cose che facciamo partiamo da condizioni difficili ma per la fine otteniamo sempre un cambiamento dello spirito con cui i colleghi con cui lavoriamo negli enti locali o nei ministeri si accostano alle cose che facciamo il digitale che noi abbiamo in tasto ognuno di noi ce l'ha in questo strumento è un elemento che può creare un surplus di etica perché è uno strumento che vive ci fa vivere in una nuova civiltà dove c'è la parità fra chi parla e chi ascolta ognuno di voi adesso con un semplice tweet può dare un giudizio magari molto negativo su quello che dico molto positivo c'è parità finalmente fra la cattedra e l'auditorio c'è parità fra l'amministrazione e il cittadino si demoliscono barriere e se mi permettete vi è quello che Henry Bergson chiamava il valore aggiunto della comunicazione che il digitale rende possibile ti dà un supplemento d'anima qualche cosa che prima non avevi e che dopo un dialogo anche nella vita normale accade quando parliamo con una persona che ci dà qualcosa di se stesso ci sentiamo più grandi e più ricchi dobbiamo fare la stessa cosa fra noi che rappresentiamo la cosa più bella che esiste è che è lo Stato grazie professore per il validissimo contributo e per gli spunti di riflessione importanti quasi la creazione di una nuova cultura amministrativa grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti